Ciao a tutti! Oggi prepareremo il succo di pesca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono pesche, nel nostro caso due tipi, tabacchiere e gialle, succo di limone, zucchero e acqua. Andiamo il via alla ricetta. Mettiamo nel boccale l'acqua e lo zucchero. Andiamo a sciogliere per 10 minuti. Temperatura paroma, velocità 1. Adesso aggiungiamo il limone, le pesche. E omogenizziamo per un minuto a velocità 8. Continuiamo a omogenizzare per un altro minuto, questa volta a velocità 10. Il succo è pronto. Adesso andremo a metterlo in una caraffa e lo lasceremo raffreddare. Una volta che il succo si è raffreddato, possiamo andare a riempire i nostri picchieri. Si può conservare in frigo per massimo due giorni. Succo di pesca. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. Grazie a tutti.